buonasera dalla redazione di flores multimedia in studio marco gargini iniziamo dalla fippi lì dove ci sono code in uscita alla strassigna provenendo da firenze rallentamenti per lavori tra pisa aeroporto e pisa nord est in direzione firenze il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana in a 11 per lavori stanotte in orario 22 6 chiusi gli svincoli di capannori in entrata verso firenze in uscita provenendo da pisa e di prato ovest in entrata verso pisa e in uscita provenendo da firenze per la viabilità cittadina a firenze sui viali piombino ed etruria fino al 23 marzo per lavori di vieti di sosta e restringimenti di carreggiata a tratti muoversi in toscana info è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti